Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla bottega didattica per il fai da te nelle tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Dunque, volevo presentarvi, pur non essendo io un grafico, Adobe Color. Adobe Color serve per creare una palette per un progetto grafico, ma anche per una presentazione, per un blog, per un sito, per un documento multimediale, per un documento ipertestuale e via dicendo. Ovvero, noi insegnanti e gli studenti non dobbiamo diventare dei grafici, però avere qualche nozione di teoria dei colori è comunque molto utile per creare un oggetto che deve integrare codici afferenti a linguaggi differenti, il colore, la grafica, l'audio, il video, l'immagine, il testo, eccetera. Per cui, pur non dovendo diventare gli specialisti in ambito grafico, un minimo di conoscenze ci può servire. Inoltre, Adobe Color non richiede grandi conoscenze, è quasi un gioco, è molto divertente creare una palette di colori con Adobe Color. Questa è appunto la funzione di questa applicazione, che è gratuita. Dobbiamo avere un account o ID, un'identità Adobe, e possiamo utilizzare gratuitamente questo strumento, creare le nostre palettes di colori e salvarle. Devo le poche conoscenze che ho in questo campo a, vedete, nella parte inferiore della diapositiva, a Lorenzo Miglietta, qui ho messo anche il link al sito, che metterò anche nel box descrittivo del video. Bene, questo Adobe Color, come vedete, è molto semplice, abbiamo una ruota dei colori e abbiamo varie possibilità di creare la nostra palette. Per esempio, qui siamo per colori analoghi, infatti, vedete, la palette ottenuta è per colori analoghi. Per creare colori analoghi sul blu, posso spostarmi sul blu, vedete, clicco su uno di questi cerchi, e man mano la palette andrà a pescare là dove ho posizionato, creandomi una gamma di colori analoghi, appunto. Per esempio, posizioniamola qui, vedete, posso anche allungare e restringere e cambia la tonalità. Posso avere una palette monocromatica, una triade, e vedete, automaticamente mi viene sistemata. Naturalmente posso aggiustarla come voglio, in questo caso abbiamo colori complementari, quindi posso ruotare in questo senso, oppure posso farla personalizzata, clicco su personalizzato, e vedete, posso spostare i cinque cerchi, ciascuno dei quali corrispondono dei cinque colori della mia palette grafica, sono solo cinque, perché si consiglia sempre di non esagerare con i colori. Ecco fatto. Un modo molto utile che ho imparato, appunto, da Lorenzo Miglietta, è quello di creare una palette di colori e caricando un'immagine. Cerco un'immagine dal mio computer, ecco qua, per esempio, un paesaggio innevato, io e mio figlio, cariciamola, come vedete, l'immagine si è caricata istantaneamente e ha generato automaticamente la palette di colori vivaci. Clicchiamo su chiari e vedete che la palette viene modificata, intensi, e così via. Naturalmente posso ritoccarla come voglio, vedete, posso spostando questi cerchi, otterrò differenti palette. Supponiamo che sia soddisfatto da questa palette, a questo punto basta che clicchi su salva. Salviamo la palette. E verrà automaticamente salvata e la potrò recuperare tutte le volte che voglio. Come faccio a utilizzare questa palette? Vado su modifica e come vedete sono ritornato nella palette. Posso selezionare ciascun singolo colore e copiare il codice RGB. Ricordo che le tavolozze o palette sono praticamente la gamma di colori che noi utilizziamo per un determinato oggetto grafico. Quindi devo usare o il codice esadecimale, che è questo qui sotto, ingrandisco un po', ecco qua. Ho questo codice esadecimale oppure posso utilizzare il codice RGB, red, green e blu. In questo modo posso applicare il colore al prodotto che sto realizzando. Quasi sempre le applicazioni web che noi utilizziamo ci danno la possibilità di inserire il codice RGB o il codice esadecimale. C'è anche l'altro codice, quello HSA, che mi dà la tinta, la saturazione, cioè l'intensità di quel colore e la sua luminosità, cioè la quantità di bianco o nero presente. Bene, posso anche esplorare. Vedete qui ci sono tante palette già pronte che io posso utilizzare, copiandone i codici esadecimali, sono davvero tante. Oppure posso vedere i temi che ho salvato io, o appunto andare su crea e ingrandire anche la ruota dei colori e crearne una personalizzata, personalizzata, agendo in modo da aumentare e diminuire la saturazione, la luminosità, la tinta e via dicendo, per ciascun singolo elemento che vado a selezionare cliccandoci sopra. Adesso vedete questo colore qui che non saprei come definire, è formato... ecco, è questo... no, chiedo scusa, è questo... ecco, lo posso modificare spostandomi un po' dove voglio. D'accordo, questo è tutto, vi ringrazio, spero che vi possa essere utile a voi e ai vostri alunni per giocare un po' con i colori e ottenere risultati migliori per quanto riguarda l'aspetto grafico dei vostri lavori. Arrivederci.